Parliamo di videogiochi, ci sono dei consigli proprio per cercare di non finire in una dipendenza perché i ragazzini adorano i videogiochi? Ci sono, i videogiochi di questo periodo sono particolarmente affascinanti, in realtà non sono più giochi ma sono vere e proprie esperienze, a volte anche di vita perché all'interno del gioco oltre a giocare si possono fare un sacco di attività, quindi anche chiacchierare con gli amici, conoscere nuove persone, quindi sono molto direi invasivi dal punto di vista dell'utente. Il consiglio è quello intanto, prima di regalare un gioco al nostro figlio, di farglielo scaricare, di controllare sempre il codice PEGI che è un codice che classifica il gioco in base all'età, quindi quel numeretto che vediamo in verde, in arancione, in rosso con l'età indica appunto il momento in cui si può regalare quel tipo di strumento. Invece purtroppo molto spesso vedo giochi 18 o più, quindi da 18 anni in su regalari a bambini di 10 anni e quindi chiaramente è come far vedere un film a un bambino che non potrebbe vedere perché non è pronto in quell'età.